Eccomi ragazzi, buon sabato sera, bentornati, non vedevo l'ora di fare questo video perché non vedevo l'ora di presentarvi il nuovo prodotto arrivato dalla famiglia Herbalife Vi sto parlando della parte esterna di Herbalife, quindi la parte che si occupa della nutrizione esterna E' il collagene da bere, Herbalife Skin, è buonissimo Prima di andarvi a presentare magari qualche segreto tecnico di questo prodotto vi vado a dire, a spiegare, anche se magari già lo sapete Che cos'è il collagene? Il collagene è la principale proteina del tessuto connettivo negli animali E' la proteina più abbondante dei mammiferi, pensate che ne costituisce circa il 25% della loro massa proteica totale appunto Mentre nell'uomo il 6%, quindi non è comunque poco Dove si può trovare il collagene negli alimenti? Inveh nella frutta secca, nei legumi, nel cioccolato fondente, nei cereali E anche nella verdura a foglia verde Anche nelle uova E nella carne comunque Nella carne anche in generale, soprattutto le carni rosse diciamo Ci sono due tipi di collagene Collagene tipo 1 e collagene tipo 2 Sono tutte e due importanti Vi parlo, vi dico che comunque il collagene di tipo 1 si trova in tutto il corpo umano E ne costituisce circa il 90% della nostra massa organica Mentre nel nostro corpo, nella nostra pelle, dove si trova il collagene? Allora noi abbiamo tre strati della pelle C'è l'epidermide che sta in alto Poi c'è il derma che sta in mezzo E poi abbiamo il tessuto adiposo che sta in basso Il collagene si trova nel derma e quindi sta in mezzo Appunto perché si chiama collagene Fa la colla per gli altri due strati Detto questo Vado a presentare questo prodotto Eccezionale Non perché ve lo voglio vendere Ma perché in primis sto provando l'esperienza su me stesso Anzi Me ne bevo un sorso che è buonissimo Ve l'ho quasi finito praticamente Troppo buono Gusto fragole, limone Ce ne sono altri in circolazione Però la gente si è lamentata che non hanno un buon gusto Questo è buonissimo Questo prodotto Erbalife lo fa nascere perché? Lo fa nascere perché Secondo Erbalife, secondo la scienza Erbalife Perché c'è la scienza dietro Il segreto per una pelle sana parte da dentro E non da fuori Quindi potete E sono d'accordo anche io Siamo anche ciò che mangiamo Oltre che pensiamo e tutto quanto Ma la nostra pelle rispecchia Solo che noi mangiamo Quindi è inutile mettere il miglior collagene in crema del mondo Se poi dentro che ne so Non bevi acqua Non assumi le sostanze che devi assumere Quindi questo è il collagene da bere È una rivoluzione Secondo me questo prodotto è veramente una rivoluzione Infatti L'azienda Erbalife ha già terminato il prodotto Ha dovuto stoppare La produzione perché l'ha terminato subito Così come è successo Con gli ultimi due prodotti Prima di questo Ma come con tutti gli altri prodotti Il collagene è fondamentale Apro una piccola parentesi Come ho detto anche in altri video Purtroppo gli alimenti hanno perso Circa il 60-70% del valore nutritivo Quindi se cercate di assumere collagene Tramite la dieta tradizionale Con quello che mangiate È quasi impossibile Ecco perché occorre integrare Per forza Siccome è una sostanza che bisogna Che va introdotta Come tutte le altre Il collagene perché è importantissimo Perché sostiene Perché nutre i nostri unghie I nostri capelli Anche la nostra massa ossea Se può essere una brutta notizia Magari non è brutta Comunque sia Invecchiamo tutti È una notizia non bella Diciamo Che dopo i 20 anni Hanno più hanno meno Uomo e donna indifferentemente Non produciamo più O ne produciamo tantissimo di meno Il collagene Mentre fino ai 20 anni Ecco perché abbiamo Una pelle più elastica Prima di 20 anni Una pelle bella Tutto quanto E quindi bisogna assumerlo In qualche modo Quindi vi ripeto Non vi sto vendendo Nessun prodotto Potete tranquillamente Andare a comprare Altre marche di collagene Non c'è nessun problema Se proverete questo Vedete la differenza Se ne provate altri Se vi trovate bene con altri Prendetene altri Non c'è nessun problema Io vi condivido La mia esperienza Con questo prodotto E come con tutti gli altri Prodotti Herbalife Perché sono straordinari Io lo uso da circa Una settimana e mezzo Già i risultati Li sto vedendo Le borse su degli occhi Non ho rughe Nonostante sono comunque Sportivo Sono un ciclista Quindi La mia pelle Il mio corpo È sottoposto È esposto Anche alle intemperie No? Freddo Vento Sole E quant'altro Però ho molte meno borse Questa è una piccola Grande differenza Che ho sentito Detto questo Questo prodotto Contiene anche vitamine Quindi ve le vado a leggere Così non mi sbaglio Vitamina A Vitamina E Vitamina C Zinco E rame Quindi È senza glutine Senza zuccheri aggiunti Non è un medicinale Non è un farmaco È un integratore naturale Soprattutto che funziona È scientificamente provato E Quindi Ci sono appunto Gli studi clinici Che ha fatto il Balife Prima di Altrimenti il Balife Non mette in commercio Nessun prodotto Se non funziona Pensate che In America C'era già C'era già Circa due anni fa Questo prodotto Là stanno avanti Fanno uscire Tutti i prodotti prima Qua in Italia Siamo un po' più lenti Però alla fine Ce l'abbiamo fatta anche qua Ha una garanzia Soddisfatto e rimborsato Come tutti i prodotti Erbalife Quindi Una garanzia così La puoi attuare Solamente Se Se te lo puoi permettere Nel senso Non Lo standard qualitativo Di questi prodotti È Altissimo Ok Non tutte le aziende Non tutte le aziende Hanno una garanzia Soddisfatto e rimborsare 30 giorni E siccome non è mai tornato indietro Nessun prodotto Erbalife Di ogni genere Significa che i prodotti valgono No Si Magari posso dirvi anche il prezzo Anche se non conta Però costa comunque 60 euro Ma Non è obbligatorio Prenderlo tutti i giorni Ci sono i misurini Quindi Può anche durarvi un mese Quindi sono 1 euro 1 euro 50 al giorno Anche fossero 2 euro Si paga il caffè No a 2 euro A momenti Quindi Magari Fumate di meno Prendete meno caffè Mangiate meno schifezze Risparmiate un po' di soldi E investiteli Su una cosa Che può farvi bene È naturale Contiene vitamine E Vi aiuterà a donare Alla vostra pelle Un aspetto Migliore Perché È scientificamente provato Che è usato Già io dopo una settimana Stavo vedendo i risultati Un mese Anzi Eh sì Un mese Già risultati sono straottimi Ma se lo provate Per tre mesi di fila Io vi assicuro Ci metto la faccia Vi assicuro Lo posso dire Perché l'azienda Mi ha detto di dirlo Vi toglie le rughe Quindi indipendentemente Dall'età che avete Ok Rallenta i segni Di l'invecchiamento E È anche Siccome contiene anche Vitamine e minerali È anche adatto Per la cellulite È anche idratante Cioè È Per le borse Per l'elasticità Della pelle È un prodotto Fenomenale È naturale Senza zuccheri Senza glutine Non costa neanche tanto Secondo me Per quello che Perché ci ha messo tanto A farlo uscire Quindi L'azienda ci ha messo tanto Ha investito veramente Cioè c'è la scienza Dietro i prodotti Non li faccio io E Che dire La sostanza E il segreto Di questo prodotto È perché dentro C'è il Verisol Che cos'è il Verisol Verisol È Aiuta la produzione Allora Il Verisol contiene I peptidi I peptidi Bioattivi Che quindi Sono Sono delle proteine Che appunto Producono il collagene Si può proprio dire Che producono Producono collagene Quindi Quindi è questo E Ragazzi Che dire Non ve lo faccio vedere più Perché Sennò sembra che ve lo devo vendere Non ve lo devo vendere Assolutamente Fate quello che volete Io vi vendo i risultati Non vi vendo i prodotti I prodotti funzionano E si vendono da soli E Vi lascerò il link Sotto al video Per Per poterlo acquistare Perché no O Comunque anche per chiedermi info Comunque sia il link Non è solo per acquistare Ma anche Anche per magari Vedere Comunque visitare anche il mio sito E Vedere magari qualche info Che non sono riuscito a darvi Ma penso di avervele date tutte E Quindi Fa bene anche per le unghie L'ho detto Fa bene per le ossa Fa bene per i tendini Per i legamenti Fa bene per tantissime cose Questo prodotto È straordinario Io vi consiglio Di usarlo Male che va Vi rito i soldi E mi rimanate indietro il baratto Più di così Che vi devo dire Ragazzi al prossimo video Ci tenevo veramente a condividere L'esperienza che sto vivendo io Con questo prodotto Lo sto vedendo sulla mia pelle È un prodotto che Io ho parlato di donne Però anche gli uomini Sono fatti di pelle Questo è un prodotto che va bene anche per gli uomini Quindi ragazzi Magari conoscete Magari non vi importa a voi Ma conoscete qualcuno Che ha problemi di pelle O volete consigliare Questo prodotto a qualcuno Quindi Quindi al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi State a casa Dove ci sono le zone Dove bisogna stare a casa Uscita è il meno possibile Mascherina Tutto quanto Ok Prossimo video ragazzi Ciao ciao Buon sabato sera Ciao ciao